Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle start-up più innovative a Firenze. Tutti i giovedì alle 9.15 in diretta radio e in web tv su Facebook e sul sito di Controradio. E anche questo giovedì siamo con grande puntualità alle 9.15. E' straordinaria la quantità di storie che da mesi vi raccontiamo tutti i giovedì con la Nana Bianca in merito a start-up e altre idee veramente innovative. Stiamo ragionando sempre di cultura digitale, della capacità della cultura digitale di pervadere ogni aspetto della nostra vita, della nostra società in maniera non demonizzata ma estremamente positiva. Però questo oggi, come dire, il discorso diventa ancora più interessante, affascinante. E' venuto a trovarci nei nostri studi Fiamma Romano della Nana Bianca. Buongiorno Fiamma, ben trovata. E vi ricordo che siamo anche in diretta Facebook naturalmente come sempre durante queste trasmissioni. E Claudio Cacioli invece di Bright Festival. Buongiorno Claudio, ben trovato. Normalmente Fiamma, noi parliamo di digitale, parliamo di app, di e-commerce, di siti web, no? In queste nostre trasmissioni. Oggi invece accade altro. Cioè ci sono anche delle start-up e imprenditori che con il digitale creano qualcosa di diverso. Ci racconti di questo? Assolutamente. Ci sono persone, soprattutto persone creative, che con il digitale stanno creando nuove forme d'arte. Gli esempi sono ormai tantissimi. Ci sono tantissime nuove forme di espressione artistica, ottenute proprio grazie all'applicazione e le tecnologie digitali. Basti pensare alla realtà virtuale, alla realtà aumentata, a tutto il mondo delle animazioni, nell'industria cinematografica, musica elettronica, fotografia digitale, le mostre multimediali sempre più frequenti, lighting design. Sono tantissime le forme di arti digitali. E fortunatamente si tratta anche di arti remunerative, che quindi sembrano superare lo storico scoglio del mondo dell'arte che troppo spesso fatica a monetizzare il valore di quello che esce. E noi a Nona Bianca, come sapete, creiamo start-up, acceleriamo start-up, ma ospitiamo anche imprenditori e start-up che arrivano con le loro idee e cercano banalmente un bel luogo dove lavorare, un contesto stimolante. E qui con noi oggi abbiamo appunto Claudio Caciolli, che è uno dei nostri co-worker, che sul tema delle arti digitali sta creando un qualcosa davvero di unico e sta portando a Firenze un qualcosa di veramente inedito. È molto bello vedere che questi termini, che a volte sembrano il co-worker, la start-up, appartengono ad altri mondi che non sono i nostri, invece sono del nostro mondo. Tutto questo accade a Firenze, non casualmente, ed è pieno di contenuti e funziona, è remunerativo, come dicevi, per cui è estremamente concreto come fatto, come esperienza. Claudio, che cos'è Bright Festival e soprattutto cosa sta per succedere a Firenze? A Firenze ci sarà un evento di tre giorni, una manifestazione organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio, con il patrocinio del Comune di Firenze, un evento dedicato a tre tematiche che negli ultimi anni hanno registrato una grandissima espansione a livello internazionale, che sono appunto, come anticipava Fiamma, gli arti digitali, il lighting design e la musica elettronica. Saranno tre giorni, suddivisi in due location, la stazione Leopolda di Firenze, una stazione ferroviaria del 1800 che è stata poi ritrasformata in spazio espositivo e per manifestazioni culturali, diciamo, negli ultimi anni, e lo Student Hotel che è una nuova realtà che da pochi mesi si è inserita a Firenze con un concept di hotel molto innovativo, che dunque non è soltanto un punto di pernottamento ma offre al suo interno una serie di spazi, di concept spaces, che appunto sono aperte appunto alle iniziative di vario tipo, tra cui appunto una parte composta appunto da una serie di classrooms, di spazi di co-living, che appunto sono dedicate appunto a attività, diciamo, di formazione culturali. All'interno di queste due location si svolgeranno appunto le attività didattico-culturali durante la parte giornaliera e di performance e intrattenimento invece durante la parte pomeridiana, serale, fino appunto a quella notturna presso stazione Leopolda. Questo, diciamo, è il format di Bright Festival che affronterà queste tematiche dal punto di vista quindi didattico-culturale durante il giorno in collaborazione con le università, con le aziende e con alcune start-up del settore selezionate, diciamo, sul territorio italiano, alcune provenienti anche da fuori il nostro paese. Durante la parte serale invece saranno coinvolti allo stesso modo aziende, con esposizioni, artisti internazionali, con performance, live e show. Abbiamo detto arti digitali, lighting design e musica, ma che cosa vi differenzia da altre esperienze simili, da altri festival? Qual è la vostra peculiarità per aiutare a raccontarvi meglio? Diciamo che su questi temi esistono diverse tipologie di evento prevalentemente suddivise in due categorie. Ci sono eventi sul modello della fiera, quindi rivolti prevalentemente ad addetti ai lavori, a professionisti, quindi dei punti di incontro tra aziende e professionisti che operano nei diversi settori. Dall'altro lato ci sono eventi invece di intrattenimento che propongono fondamentalmente artisti che si esibiscono appunto nelle varie tematiche di fronte al pubblico appunto degli appassionati. Nel nostro caso diciamo che l'evento è una forma ibrida delle due, quindi da una parte sarà possibile scoprire i temi attraverso appunto una serie di workshop, di seminari, di dimostrazioni, di masterclass tenute da relatori, da docenti universitari, da esperti di settore e da professionisti e per il pubblico sarà possibile scoprire quali sono i background, le opportunità lavorative anche di questi settori che di fatto ci circondano ma di cui nel nostro paese ancora non si sa abbastanza. Dall'altro lato invece appunto si avrà la possibilità attraverso esposizioni, installazioni ed esperienze immersive per la stazione Leopolda di scoprire appunto queste arti appunto anche dal punto di vista evocativo e emozionale appunto cosa possono comportare. Quindi in questo caso diciamo è una forma di educazione allo stesso modo come quella appunto della parte giornaliera però attraverso l'intrattenimento. Ci sono tanti termini nuovi, tanti termini in inglese, ci piace sempre raccontarli e spiegarli per cui fiamma tra pochi secondi ti chiederò la cosa del co-worker diciamo così come tu l'hai presentato però Claudio un'ultima domanda voglio fartela sulle difficoltà per realizzare un progetto del genere e come si risolvono queste difficoltà perché poi quando uno butta su un territorio un qualcosa di nuovo, di diverso, innovativo naturalmente deve poi accordare i suoni con una serie appunto di difficoltà. Quali sono? La difficoltà principale consiste diciamo nello scetticismo fondamentalmente quando si ha un progetto innovativo che non ha dei precedenti come nel caso del nostro format che non è mai stato proposto all'interno della nostra città ma nel nostro caso appunto anche all'interno del paese chiaramente appunto si trovano diverse appunto opinioni noi abbiamo avuto fin da subito degli hot me feedback da parte di tantissimi interlocutori però di fatto poi quando si cerca di andare a concretizzare ecco quelle che sono le collaborazioni le partnership che sono fondamentali nell'organizzazione degli eventi ecco non è semplice si possono incontrare tanti no che di fatto sono positivi perché comunque ti possono indicare dove stai sbagliando e dove ti puoi correggere cosa peggiore si possono incontrare delle non risposte e le non risposte diciamo sono a mio parere diciamo quello che ti crea diciamo più problemi perché appunto non ti permettono di capire la strada che devi prendere come superarli con costanza e con passione fondamentalmente che è quello che ti permette appunto di superare tutti i vari ostacoli e cercando persone che credono appunto nell'idea partendo da una poi a due poi a tre si riesce a trovare sempre più forza si riesce a creare una base sempre più solida e quindi si riescono poi arrivare ai risultati come buone partnership o grandi collaborazioni come quelle che di fatto abbiamo già ora ci scrive Alessia e chiede di ripetere un po' di dettagli ovvero il nome del festival è Bright Festival Digital Arts Lighting Design Electronic Music 21, 22 e 23 di febbraio a Firenze stazione Lopolda Student Art Hotel ingresso libero ci chiede Alessia allora e dove si trovano tutte le informazioni? allora le informazioni si trovano sul sito web www.brightfestival.com si trovano sulla pagina facebook e instagram sotto il nome appunto Bright Festival gli ingressi saranno di vario tipo ci saranno ingressi aperti al pubblico soprattutto per la parte formativa negli incontri con i docenti universitari come con esperti di settore ci sarà la possibilità di partecipare a workshop, lectures e masterclass in forma del tutto gratuita solo su registrazione ci saranno degli eventi più specifici come workshop su tematiche particolari con un livello più alto che quindi saranno rivolti ai professionisti che ricercano un vero e proprio upgrade personale e lavorativo che invece avranno un biglietto separato l'ingresso invece a questo per quanto riguarda Student Hotel per quanto riguarda Stazione Lopolda ci sarà un ticket di 10 euro per quanto riguarda la fascia pomeridiana fino alle 10.30 che comprende installazioni multimediali esperienze immersive sale conference dimostrazione e performance di artisti dalle 10.30 a notte fino alle 3 ci saranno invece appunto i migliori esponenti a livello internazionale della musica elettronica che si performeranno sul palco con uno spettacolo di luce e di digital art per chiudere in qualche modo appunto il festival appunto di vista dello spettacolo e anche lì ci sarà appunto un biglietto separato comunque tutti i ticket sono sul sito cioè è il sito ripetiamo il sito un attimo www.brightfestival.com fammi romando 30 secondi a chiudere e chi sono i co-worker? i co-worker sono persone che con la loro professione o con la loro idea di impresa cercano uno spazio come quello che possono trovare in Nana Bianca e fisicamente tutti i giorni o qualche volta al mese vengono fisicamente a lavorare lì Nana Bianca non è solo un co-working in Nana Bianca chi arriva come Claudio non trova solo uno spazio trova anche un network di persone di imprenditori di start-up e di professionisti che contribuiscono a creare un ecosistema imprenditoriale dove abbiamo la bellissima e buona abitudine di condividere esperienze know-how esperienze positive esperienze negative per aiutarci a imparare anche appunto dai successi e perché no anche dai fallimenti e non proprio i casi positivi che possono presentarsi e quindi sono persone che invece di avere voglia di lavorare nel loro piccolo ufficetto un po' isolati dal resto del mondo cercano uno spazio collaborativo dove lavorare e condividere esperienze Fiamma Romano grazie Claudio Cacioli grazie anche a te per serci minuti a trovare la One Two Startup la Nana Bianca torna giovedì prossimo tra poco il giornale radio di Popolare Network è l'ultima parte di Todocambia One Two Startup Startup un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle start-up più innovative a Firenze tutti i giovedì alle 9.15 in diretta radio e in Web TV